Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vediamo tutte le giostre aperte, tutte le giostre al completo Qui abbiamo il jumping Qui invece abbiamo la giostra bimbi Qui abbiamo i mini calci E lo sparo e vinci Qui abbiamo i mini autoscontri Qui abbiamo la pesca dei cini E il playground E lì i salta salta Qui abbiamo il ranger Il project X Finalmente tutto montato E abbiamo gli autoscontri di 7 Ecco gli autoscontri di 7 E il ranger Gli autoscontri E' arrivato anche il tag ad ad 7 Però non sono né riuscito a registrare l'arrivo E né registrare una fase del montaggio come gli altri giostre Poi ci ho fatto una foto e ve la posso far vedere Abbiamo i calci in culo Ecco il retro della cassa E i calci in culo in sé Qui abbiamo la giostra aerea TAPGUN Eccolo La penultima giostra è il draghetto Che già conosciamo perché è stato sia a Carpi che a Castagnaro E infine abbiamo i World Disney Con davanti queste tre giostre Vi dico che il video conclude qui Iscrivetevi al canale Lasciate un like E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao